Le Marche rischiano di entrare in zona gialla e a tal proposito il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, assicura il mantenimento del cartellone degli eventi natalizi, a meno che non arrivino indirizzi diversi dagli enti superiori. Il primo cittadino manifesta l'intenzione di obbligare all'uso delle mascherine anche per gli eventi all'aperto, a prescindere dall'ingresso o meno in zona gialla. Io ho parlato con il prefetto la settimana scorsa e appunto abbiamo parlato di queste manifestazioni natalizie. Avevo preannunciato al prefetto che avremmo tenuto un livello alto, chiaramente con l'uso della mascherina in ambiente anche all'aperto, quindi soprattutto in zone affollate. Noi il programma natalizio l'abbiamo stilato, è chiaro che cercheremo di essere un po' più severi nelle norme da seguire, poi aspettiamo se qualcuno ci dirà che ci dobbiamo fermare, ci fermiamo. Per il Capodanno in piazza spazio agli artisti di San Benedetto per un evento che si protarrà per tre giorni, da venerdì 31 dicembre a domenica 2 gennaio. Io sicuramente il Capodanno in piazza vorrò farlo, soprattutto perché abbiamo messo in moto una manifestazione fatta dai sanbenedettesi, come avevo già promesso in campagna elettorale e subito dopo la festa della nostra vittoria. Lavoreremo con gli artisti di San Benedetto, abbiamo, la cosa che vi posso anticipare è che sarà un full immersion di musica, perché ci saranno tre giorni di musica, quindi la notte di Capodanno, poi il giorno dopo e poi la domenica, dove il pomeriggio canteranno, dei giorni successivi al Capodanno, canteranno tutta una serie di artisti sanbenettesi. Anticipato quest'anno l'evento Natale al Borgo, che si svolgerà nei vicoli del Paese Alto sabato 18 e domenica 19 dicembre, con la regia di Affreddo Amabili, ingresso con Super Green Pass e mascherine. Natale al Borgo è una manifestazione bellissima, che è anche piacevole da vedere, simpatica e speriamo di poterla fare.